24 aprile 2021 e qui purtroppo posso andare solo a destra perché se attraversasse il ponte andrei in un'altra regione e non si può. Continua il giro da Milano a Sesto Calende in questo video vedremo il tratto da Sommalombardo a Gola Secca poco prima di Sesto Calende sono sempre sulla mia Bianchi oltre XR4 e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricate e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche e già che ci siete condividete sui social i video che preferite se volete potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio volendo potete seguirmi anche su Twitter e perché no anche su Instagram vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo vi ricordo che ci sono va bene 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 oh finalmente si sono decisi era ora e i miei video funzionano ancora come stimolo per fare mettere a posto il manto stradale dove fa schifo dove è indegno e infatti ora è un'altra cosa ora si che ci si può vedere il panorama spettacolo speriamo che sia tutto così e finisce l'asfalto nuovo eccezettibile va bene via ecco 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Pen danni. Cambio batteria. e si riparte. ecco qui necessita una bella sfantata è veramente un cratere ecco qui Il pianto di alberi grani ormai, criminali Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati Guarda altri video, ce ne sono di vari generi, i video di questo giro continuano, ciao, alla prossima!